Inaugurata la nuova pista ciclabile di Parco Leonardo, tre chilometri che arrivano fino a Portus seguendo l'argine del Tevere. Chi la percorrerà in bici o a piedi potrà godere di un bellissimo panorama, uno spettacolo unico ricco di storia, natura e vegetazione. Salgono così a 25 i chilometri di pista ciclabile realizzati in cinque anni dall'amministrazione a guida del sindaco Montino, che punta nel prossimo mandato a raddoppiarli portandoli a 50 chilometri, incentivando in questo modo la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio ed il turismo. Finalmente dopo un lavoro un po' lunghetto, diciamo così, è andato un pochettino alle lunghe, però un lavoro fatto benissimo. Adesso vedrete che è un lavoro alla sua bellezza, ha due ponticelli legno da spettacolo, quindi è una cosa da vedere, un ponte da 90 metri e uno da 20 metri legno lamellare. Quindi è una pista ciclabile di 3,2 km, quindi tutta quanta nella natura, vedrete nel percorso degli spettacoli inimmaginabili proprio. Sono i 3,2 km che si attaccano al pezzo che va fino alla Portuense, quindi proprio oggi abbiamo messo il cartello e dalla prossima settimana iniziamo il cantiere della ciclabile per arrivare fino alla ciclabile che è sulla via Portuense. Quindi vedrete che ci sarà il collegamento tra le due ciclabili. Eravamo a 22 km di ciclabili, con questi 3 km siamo a 25 km di ciclabili ed altri 10 le abbiamo in costruzione. Quindi abbiamo una rete di ciclabili che nessun comune del Lazio l'ha, quindi è una cosa spettacolare. Questo ultimo pezzo è così ancora da cantiere ma qui la pista continua sull'argine, attenzione, questa continua sull'argine fino ad arrivare al vivaio, dopo il vivaio scende sulla Portuense e poi fa il tracciato che ricordava adesso Angelo. Io però un ringraziamento innanzitutto volevo farlo adesso preliminare ai nostri vigili e al nostro ufficio ambiente che ha fatto un lavoro di pulizia qua abbastanza importante sia su questo parcheggio. Quindi abbiamo fatto anche questo lavoro di pulizia intorno, questo è molto importante. Poi ovviamente un ringraziamento, come diceva Angelo, un po' a chi ha lavorato, chi ha lavorato, i nostri tecnici, i nostri progettisti, i nostri direttori dei lavori. Ora, Angelo non ricordava, guardate, noi siamo arrivati a 25 km di pista ciclabili. Credo che non ci sia un comune del Lazio che in 5 anni abbia fatto 25 km.